483 del 4 luglio 2016, aggiunta su proposta del sindaco, previsto che la signora Sofia Lore, il nome nate di Sofia Frittani Scicolone, nata a Roma, è una delle più cerebri attrici della storia del cinema mondiale, figlia di madre napoletana e cresciuta a Pozzuoli, e ha sempre intrecciato la sua splendida carriera professionale con la città di Napoli, attraverso interpretazioni memorabili di film che hanno avuto autori, registi e ambientazioni scenografiche riguardanti la nostra città. Considerate che Sofia Lore ha ricevuto i massimi riconoscimenti artistici e professionali nazionali e internazionali, come dimostrano gli Oscar, il rione d'oro della mostra del cinema di Venezia, il Davide di Noratello, la Coppa Volchi, i Nasti d'Argetto, la Palma d'Oracano, il proprio un gruppo di numeri e altri premi che hanno postellato una carriera assolutamente unica ed irripetibile, che ha attraversato vari generi cinematografici, tra i quali la commedia italiana con ruoli brillanti, diretta magistralmente dalle università dimenticato Vittorio De Sica o al fianco in tanti film del grande Totò, ma anche puri drammatici che hanno valso un'animo i giudizi della critica mondiale, quale ad esempio la Sociala, dove grazie alla sua interpretazione intensa e ineguagliabile sono ben evidenziati e reaccusi gli orrori e le sofferenze causate dalla guerra. Rilevato che Sofia Loren ha manifestato da sempre il suo immenso affetto e il suo indissolutile legame con la nostra città, con la quale ha stabilito infatti in vari momenti della sua attività legame unici attraverso interpretazioni ad esempio di personaggi creati dal geno del grande Darmaturgo Eduardo De Filippo, come Flumena Marturano o Matrimonio all'Italiano, recitando con un altro grande attore, Marcello Mastroianni, anche egli molto legato a Napoli e al suo territorio, sabato, domenica e lunedì, a bianco del compianco, Luca De Filippo, che ha profuso grande passione umana e professionale per portare la cultura di Napoli nel mondo intero, essendo lei stessa universalmente identificata quale donna e attrice napoletana. Che Sofia Loren ha dimostrato grande vicinanza a quella che lei stessa definisce la mia Napoli, la città che mi riporta la mente alla mia fanciudezza e alla mia gioventù. La città che lei ha difeso strenuamente per esempio quando ha presentato al teatro mercadante l'anteprima del film La Voce Umana, diretto dal figlio e regista Eduardo Conti. In tale occasione Sofia Loren, commuovendosi, ha rifiutato gli stereotipi ottenuti a Napoli e gli attacchi mediatici in cui spesso è oggetto, perché ha affermato quando sento parlare male di Napoli la difendo come si fa in una famiglia. I napoletani spesso mi mancano. Che costituisce motivo di grande orgoglio per la nostra città a noverare tra le sue figlie, migliori Sofia Loren, autentico e assoluto patrimonio di Napoli e dell'intero nostro paese. Sofia Loren ha fatto conoscere attraverso la sua inarrivabile espressività recitativa l'immenso patrimonio artistico, contribuendo in modo determinante all'affermazione della migliore immagine della nostra città. Ritenuto che si vuole fermamente rinsaldare ufficialmente, in modo inissolutivo, in legame di profondo affetto e amicizia tra Napoli e Sofia Loren, a tal proposito quindi il sindaco, prendendo doveroso e sentito omaggio al suo attaccamento e al suo amore della nostra città ed interpretando la volontà dei cittadini napoletani, intende conferirle la cittadinanza onoraria. Delibera. Conferire per i motivi esposti in narrativa all'attrice, signora Sofia Loren, la cittadinanza onoraria con il pubblico attestato dei sentimenti di amicizia, stima, gratitudine, ammirazione e affetto della città di Napoli, maschio angiohino, 9 luglio 2016, il sindaco. Grazie. 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 Grazie.